ItalService SRL nasce ufficialmente nel 1997 dalla brillante intuizione del suo fondatore Nino Pizza che colse l'importanza di abbinare la colorazione del bordo a quella dei lati frontali dei pannelli in legno, comunemente utilizzati nel settore del mobile. Oggi, dopo 25 anni di attività, ItalService è un'importante realtà industriale in grado di produrre, immagazzinare e commercializzare migliaia di decorativi con le principali tipologie merciologiche di bordi per mobili attualmente in circolazione. Figlio del compianto Nino, Lorenzo Pizza, è attualmente manager e proprietario del gruppo ItalService che vanta tre marchi aziendali, una superficie interna di oltre 10.000 m2 ed una serie di piazzali esterni di oltre 20.000. Con sedi operative e logistiche a Talacchio di Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino, ItalService, Nino Pizza Rappresentanze ed ItalLeader sono in grado di offrire un efficiente servizio di magazzino con logica just-in-time, a disposizione della grande filiera dell'industria del mobile e dei componenti per arredo. Per un totale di 35 dipendenti ed un fatturato complessivo di oltre 20 milioni di euro, il gruppo ItalService è tra i leader del mercato italiano dei bordi per mobili e si pone l'obiettivo di fidelizzare i propri clienti e conquistare nuove quote anche sui mercati internazionali. Bordi di alta qualità per la moderna industria del mobile e dei componenti per arredo. Impianti all'avanguardia per tagli di altissima precisione. Ampia disponibilità di stoccaggio. Consegna puntuale e veloce. Packaging ecologico. L'eccellenza dei Bordi TalService è un marchio di garanzia per il settore del mobile da 25 anni. Una grande famiglia dell'industria italiana, fiera di tenere alta la qualità produttiva del nostro paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.